E' tornato a salire il numero dei contagi a Sciacca. Questa mattina è stato il sindaco Francesca Valenti a comunicare sette nuovi casi di positività al Covid che portano il totale degli attuali contagiati a 38. Le sette persone che hanno contratto il virus sono di svariate fasce di età. Sale anche il numero dei decessi. L'ultimo, relativo ad un'ottantenne di Agrigento, è avvenuto oggi all'ospedale di Sciacca dove già nel fine settimana erano deceduti un uomo di Caltabellotta di 87 anni e un altro di Serra di Falco di 80 anni che erano ricoverati da alcuni giorni nel reparto di terapia intensiva. Decessi che hanno portato a 5 il numero dei morti al Giovanni Polo II in pochi giorni dopo l'anziana Saccense di 87 anni e un'altra di 93 anni di Chiusa Sclafani. Anche all'ospedale di Agrigento c'è stato un decesso, quello di una donna di 72 anni di Portempedocle, anche lei positiva al coronavirus, con i familiari che hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica. Tornando ai contagi, altri tre casi di positività sono stati riscontrati nel comune di Santa Margherita Beric. Si tratta di un uomo di 48 anni e di un bambino e una bambina di 3 anni che erano stati sottoposti nei giorni scorsi prima a tampone rapido e poi a quello molecolare in quanto alunni di una classe della scuola dell'infanzia interessata ad un altro caso di positività. Con questi nuovi tre casi Santa Margherita sale a 58 persone attualmente contagiate. Altre tre persone sono risultate positive al covid a Sambuca di Sicilia. Due nuovi casi anche a Montevago dove adesso i positivi sono nove. Per uno dei due si è reso necessario il ricovero nel reparto di medicina covid del Giovanni Paolo II di Sciacca. L'altro è invece asintomatico, secondo quanto ha riferito il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo. Un altro contagio da coronavirus infine a Caltabellotta dove adesso i casi accertati sono 14. La situazione in provincia resta assai critica a Canicattì che ha raggiunto quota 135 ma anche a Palma di Montechiaro dove con 12 nuove persone contagiate il numero degli attuali positivi adesso è 57 e a Favara con sei nuovi casi per un totale di 63 soggetti positivi al covid. In crescita anche il dato di Aragona che passa da 25 a 29 persone contagiate e di Grotte che registra 7 nuovi contagi per un totale di 25 persone attualmente positive.